Ciao a tutti e buon lunedì a tutti. Inizia la nuova serie, un grattino al giorno leva il medico ritorno. Oggi che lunedì cominciamo con un doppia sfida da 5, 23, 29, 15, 40, 18. Questa serie la voglio chiamare così. Oh, 15, già vincente, attenzione. Questa serie la chiameremo così, un grattino al giorno leva il medico ritorno. L'11 non c'è, il 16 non c'è, ricordiamoci che questo è il doppio gioco, 33 non c'è, 45, INN come dicono in Piemonte, 21 non c'è, 44 non c'è, 26 non c'è, 24 non c'è, 28 non c'è, c'è 29 e 27. Vertiamo prima tutte le altre cifre, intanto in teoria non ci sono, dovrebbe essere l'incita secca, 500 e 500 mila, 50 e 5, tutto a base di 5, 50, è tutta a base di 5, attenzione, 100, 10.000 e 100, 500.000 sono 2, 1.001, 10.000 e sono 2, sotto il 15 cosa c'è? 5 euro. Va bene, questo lunedì è partito bene, abbiamo recuperato 5 euro. Ancora buoni lunedì a tutti e ciao a tutti e un bacio a tutti. Ciao!